Ciao a tutti, oggi voglio far vedere questa autoradio della Daniel Sound con cassette e radio il vattaggio non lo so però si sente molto bene, potente con questo l'accendiamo vedete qua amfm si illumina questo qua è il bilanciamento questo però è solo due canali questo qua è il tono prima questa manopola era rotta però adesso l'ho riparata questo è il pulsante eject che esce la cassetta questa è la stazione, vedete qui che si muove si prende anche molto bene senza l'antenna questo è stereo mono, questo è indietro, questo è avanti, questo è l'auto reverse questo di xlow non ho idea però se l'inserisco la radio si sente male se faccio così si sente bene questo è amfm poi qua notate tre luci verde, rossa e verde cosa servono? facciamo una prova io metto una cassetta questo qua indica che è dal lato giusto così l'auto reverse va nell'altro lato adesso la cassetta è uscita fuori scusate questo invece indica stereo mono se io accendo adesso vedete adesso proviamola l'accendo io adesso uso questa cassa dell'home theater da 30 watt vedete prende molto bene però per sentirla bene mettiamo aspettate che ho avuto un pezzo di filo ok fatto veramente molto potente sinistro destra la cassetta veramente si sente bene funziona pure così da spenta l'auto reverse non c'è niente e niente grazie a tutti grazie a tutti